Numero 10. Approvazione. Allora, per quanto riguarda questo ordine del giorno, proporrei il ritiro. Perché? Faccio questa premessa. La Commissione Biblioteca, da tempo, mi sembra, da anni, chiedeva di recedere al sistema bibliotecario che di fatto ci costa un euro ad abitante per il Comune per una serie di servizi che sono legati al sistema bibliotecario che, se volete, a livello generale, sarebbe anche una cosa molto buona perché consente lo scambio di libri un certo collegamento, direte, per quanto riguarda appunto testi che magari si trovano in altre biblioteche. Ma che di fatto, qui a Rossimo, nonostante sia da anni che il Comune stesso abbia aderito, non era mai avvenuto. E dunque la Commissione Biblioteca chiedeva perché voi amministratori non ricevete da questo sistema bibliotecario e magari conferite qualche soldino in più da spendere nell'acquisto di libri per dotare alla nostra biblioteca di nuovi testi piuttosto che aderire a questo sistema bibliotecario. E diciamo che l'amministrazione poteva accogliere anche la cosa. Purtroppo gli enti comprensoriali, purtroppo per fortuna, dipende da come lo si vede, ha legato il sistema bibliotecario al sistema del distretto culturale della Valle Camonica al quale noi comunque abbiamo aderito. E ricevere da uno non potrebbe ricevere anche dall'altro. Sinceramente ci pare per molto inopportuno, anche perché proprio in questi giorni stiamo definendo con loro un apposizionamento di cartelli che viene fatto a totale costo del sistema del distretto culturale della Valle Camonica sia sulla statale, sia nelle strade provinciali che interne ai comuni stessi e dunque al Comune di Osmo e parebbe, oltre che indelicato, anche, consentitemi, anche, poco saggio, perché ovviamente verremo estragnati e tolti da tutte le attività promosse dal distretto culturale. Pertanto, quello che si voleva in origine fare, quello di toglierci dal distretto, dal sistema bibliotecario di Valle Camonica, riferendo in opportuno in questo momento, farlo per le motivazioni di cui sopra e dunque io propongo il ritiro dell'ordine del giorno numero 10. Il numero 11 è niente, giusto?